I visitatori certamente più piccoli sono invece quelli che ieri hanno invaso la città di Bassano per il tradizionale appuntamento con Città dello Sport. Con i maestri ho insegnato ai bambini le mosse. Metà e metà maestri. Sfidare anche i maestri è vincere, tutto è davvero possibile, insomma a Città dello Sport la manifestazione che da 7 anni ogni settembre e per un'intera giornata trasforma il centro di Bassano in un'enorme palestra a cielo aperto. Quest'anno, come già nel 2011, la festa si è allargata anche al Parco Ragazzi del 99, dove i piccoli e i piccolissimi hanno potuto mettersi alla prova in discipline non certo usuali per essere praticate in città. Sci, subacque, a vela, canoa ed equitazione hanno letteralmente catalizzato l'attenzione dei giovani atleti in erba, confermando ancora una volta il successo di un evento in cui l'importante è davvero partecipare.